Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano, oggi ti voglio proporre un altro quiz di matematica. Infatti dopo quello che ti ho proposto qualche tempo fa, ed eccolo qui, che ha suscitato tantissime visite e tantissimi commenti da parte vostra, te ne voglio proporre anche un altro, che però questo ha fatto davvero scalpore, perché è diventato virale in tutto il mondo, dopo che in Giappone si è visto che soltanto il 60% degli adulti sapeva risolverlo. E tu lo sai risolvere? Eccolo qui, guarda, te lo faccio vedere, e ti vado a dire di prima di vedere la soluzione che tra un po' ti vado a dare, ti chiedo dai, risolvela da sola, da solo, così che poi possiamo andare a vedere il perché aveva qualche inghippo e qualcosa che magari spesso si va a sbagliare. Infatti durante la soluzione ti voglio far vedere anche il perché, a volte in matematica esistono delle regole che ci permettono l'univocità della soluzione, non sono cose che dobbiamo considerare coimposte dall'alto, ma servono affinché qui in Italia, in Giappone e negli Stati Uniti si abbia sempre la stessa soluzione. E sarebbe bello infatti far vedere queste cose anche ai nostri studenti di come a volte magari dei fraintendimenti ci possono dare situazioni sbagliate. Quindi dai, risolvila da sola, da solo, e scrivilo qui nei commenti. Infatti ti voglio chiedere davvero come hai fatto per l'altro video, dai, scateniamoci nei commenti, io cercherò sempre di rispondere. Prima di partire ti voglio ricordare, mentre tu stai lì a fare i calcoli, di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina, così rimarremo sempre in contatto. Infatti per me è un grandissimo, enorme favore. Questi sono tutti gli altri miei social, ti aspetto anche sul canale Telegram, basta che vai a mettere l'indirizzo di Telegram e sarai all'interno del mio canale, ti darò tantissime offerte a settimana. Da ultimo ti voglio ricordare che ho anche una pagina Patreon, questo significa che su Patreon se diventi mio sostenitore potrai andare a ritrovare tutti gli script, quindi le guide dei miei video, anche di questo, con spiegate tutte le cose e tutti i calcoli, ma anche di tutti gli altri corsi, di tutti i video vecchi e di tantissime altre cose. Ora non ci resta che partire e sei pronta, pronto per la soluzione, dai, andiamo a vedere. Eccoci qui, quindi andiamo subito a vedere qual è questo problema e andiamoci a ricordare un po' di regole che ci faranno comodo. Questo è il nostro problema, 9 meno 3 diviso un terzo più 1. Qual è il risultato? Questo ha messo in crisi davvero tantissime persone e noi adesso lo andremo a risolvere. Quindi cosa ci dobbiamo ricordare? Ci dobbiamo ricordare le regole di precedenza e le regole sono queste, quelle che anche la volta scorsa avevamo chiamato compendas e cioè prima vanno eseguite le parentesi, poi l'elevamento a potenza, poi la moltiplicazione e la divisione, poi l'addizione e la sottrazione, ma ci dobbiamo ricordare di questa cosa importante. E cioè se la moltiplicazione e la divisione o l'addizione e la sottrazione hanno la stessa priorità, cioè non è che viene prima la moltiplicazione e poi la divisione, infatti se le troviamo insieme, in mancanza di parentesi che in realtà ci danno una precedenza, debbono essere eseguite come le vediamo, e cioè da sinistra verso destra. La prima cosa che ti voglio far capire, perché davvero tantissimi commenti nel video precedente, proprio ma perché dobbiamo andare ad avere delle precedenze? Ebbene, guardate, le precedenze servono per assicurare che le espressioni abbiano sempre lo stesso risultato. Guardate, facciamo questo esempio qui, x più y, sappiamo che deve essere uguale a y più x, questa è la famosa proprietà commutativa della somma. Ora, se ad esempio diamo ad x, guarda, facciamo anche con i colori, così magari è chiaro anche per tutti, anche per coloro che insomma non sono espertissimi di matematica. Se ad x diamo 2 e ad y, ad esempio, diamo il valore di 4 per 3 ed andiamo a sostituire adesso. Quindi, a posto di x ci andiamo a mettere 2, più a posto di y ci andiamo a mettere 4 per 3, e poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Abbiamo y e quindi scriviamo 4 per 3, più, e andiamo a mettere x che invece deve essere 2. Andiamo a vedere qual è il risultato, dunque, della prima espressione. Se non utilizziamo le regole di precedenza, ma vediamo, facciamo insomma come vogliamo, e quindi facciamo 2 più 4 per 3, ecco, vediamo che mi viene 6, 2 più 4 per 3, ho 6 per 3 ed è 18. Se invece andiamo di sotto e quindi anche qui non utilizziamo nessuna precedenza, in realtà qui non c'è la precedenza, qui è quella corretta, 4 per 3 è 12, più 2 mi viene fuori 14. E quindi vediamo che se non utilizziamo le regole di precedenza, che sono queste che abbiamo indicato qui sopra, anche le più semplici proprietà non vengono rispettate. E dunque abbiamo bisogno di precedenze. Una volta che abbiamo capito che le precedenze sono importanti, possiamo andare a risolvere. La prima cosa che dobbiamo controllare è se ci sono delle parentesi, ma le parentesi non le abbiamo e quindi diciamo che questa è un'operazione già fatta. Poi andiamo a vedere se ci sono elevamenti a potenza, anche in questo caso gli elevamenti non ci sono, quindi l'operazione da fare successivamente è la moltiplicazione o la divisione. E vediamo che qui abbiamo una divisione. Dunque il 9 va riscritto, il meno va riscritto e dobbiamo fare questa divisione. La divisione di 3 diviso un terzo è, sappiamo dalle regole basi della matematica, che è come andare a moltiplicare per il reciproco. E quindi metto 3 per 3 più 1 uguale. A questo punto andiamo a svolgere l'altra moltiplicazione, perché abbiamo visto che se non ci sono le precedenze davvero è un pasticcio. Quindi 9 meno 3 per 3, 9, più 1. Perché a questo livello qui io debbo rifare di nuovo tutto lo screening delle precedenze. Quindi le abbiamo fatte tutte. A questo punto, a questo livello, ci sono solo addizioni e sottrazioni. Il 9 e il 9 si semplificano. Dunque il risultato corretto è 1. Quindi possiamo andare a togliere qui il punto interrogativo e andarci a mettere un bell'1 magari in verde. I possibili errori che possiamo commettere anche con una semplice espressione del genere. Uno dei miei maestri mi dice sempre che anche sulle cose molto semplici si possono dire stupidaggini. Quindi mi dice sempre stai molto attento alla matematica. È il fatto che non vado a considerare le precedenze. E dunque vado a fare le operazioni così come sono scritte. Quindi 9 meno 3, poi scriviamo diviso un terzo più 1. E quindi abbiamo 9 meno 3 è 6 diviso un terzo più 1. Che a questo punto possiamo andare a fare la moltiplicazione per il reciproco. E quindi andare sempre a svolgere le operazioni così come le vedo. 6 per 3 è 18, più 1 è 19. E questo è un errore molto molto grave. Però dobbiamo stare attenti anche ad un'altra cosa. Ora per darci conforto di quello che abbiamo detto andiamo a fare la verifica anche online. E quindi utilizzando prima il motore di ricerca Google. Se non hai visto il mio video su come andare ad utilizzare la barra di ricerca di Google proprio come una calcolatrice te lo vado a consigliare. Però vediamo che se a Google non gli scriviamo delle espressioni sulla barra di ricerca lui le interpreta proprio come espressioni matematiche. Allora però dobbiamo fare attenzione a come scrivo. E cioè se adesso io scrivo così. 9 diviso 3 diviso 1 diviso 3 più 1. E vado a mettere l'invio. Vediamo che innanzitutto lui mi va ad aprire, vedete, una calcolatrice. Ed inoltre andiamo a vedere come mi va a scrivere anche l'espressione. Ma questa espressione, se adesso io la prendo, guarda, la vado a tagliare e la vado ad incollare qui. Andiamo a vedere che non è l'espressione che noi stavamo risolvendo. Infatti qui abbiamo 9 meno 3 diviso 1 diviso 3. E invece qui abbiamo 9 meno 3 diviso 1 terzo. Invece qui interpreta in questo modo qui. 9 meno 3 diviso 1 diviso 3 più 1. E questo non è quello che è scritto qui. Vedete che le due espressioni sono diverse. Quindi lui cosa fa? Fa così 9 meno, va a risolvere subito, usa le regole di precedenza. E la regola di precedenza, dal momento che qui abbiamo due divisioni, però la precedenza ci dice che questa viene per prima e poi questa viene per seconda. E quindi fa 9 meno 3 diviso 1 che è 3 diviso 3, lo va a riscrivere più 1, uguale. A questo punto, ancora, siccome le regole di precedenza ci dicono che dobbiamo usare la divisione, facciamo 3 diviso 3, quindi ho 9 meno 1, 3 diviso 3, più 1, uguale. 1 e 1 va via. E quindi gli rimane 9. Ma è quindi il risultato per lui è 9. Ma noi non abbiamo scritto in maniera corretta. Andiamo a vedere come dobbiamo scrivere in maniera corretta, perché l'1 terzo in realtà va messo tra parentesi. In quel modo, lui si accorge che 1 terzo è ciò che io volevo fare. Ed infatti, vedete come anche qui, quando va a mettere le parentesi, dà la sua precedenza, e cioè la precedenza corretta. E cioè 1 terzo è tutto un termine a sé stante. Cioè non ci crediamo, possiamo aprire anche un notebook di matematica. Vedete che qui io già ve l'ho scritto in forma corretta e forma esatta. Vedete che anche matematica, Wolfram matematica, se io glielo vado a scrivere così, cioè 9 diviso 3 diviso 1 diviso 3, fa come abbiamo visto lì su Google. E invece nella forma esatta, se vado a mettere un terzo in questo modo qui, e quindi un terzo ha la sua entità separata, vedete come me lo va ad interpretare nella forma esatta. Ora non ti voglio tediare a fartelo vedere anche con Excel, ma vallo a vedere anche con Excel, perché anche Excel, se tu non metti la parentesi, lo va ad interpretare in maniera sbagliata, quindi dobbiamo fare attenzione anche a come andiamo a scrivere la matematica. Interessantissimo discorso sul linguaggio e la matematica. Ora, io spero davvero che ti sia piaciuto, lasciami qui nei commenti tutto ciò che pensi di queste cose che abbiamo visto, scrivimi qui il tuo risultato e ci vediamo dall'altra parte. Dai, adesso anche tu puoi far vedere queste cose a tantissime persone. Guarda un po', lo sai risolvere? Io sì. Bene, abbiamo capito il perché, abbiamo capito che dobbiamo stare attenti anche nella scrittura, a volte delle nostre formule e quindi io adesso prima di lasciarci ti chiedo di iscriverti al mio canale. Dai, per te è soltanto un clic di mouse, per me è un grandissimo, enorme favore, nemmeno te lo immagini. Questi sono tutti gli altri miei social, ti aspetto su Telegram, tantissime offerte a settimana. Se vieni su Patreon e diventi il mio sostenitore, potrai anche avere tutti gli script, quindi tutte le cose che ho detto, scritte da me, colorate e così via, di tutti gli altri corsi, di tutte le cose che sto facendo. Ora non mi resta che augurarti un buonissimo lavoro, un ottimo studio e salutarti con il mio. Ciao ciao, grazie infinite, alla prossima. Stavamo le serate a parlare di malanni, congetture e le fobie, e la mia grande panofobia.